Ciao fratelloni come state su Erwine, bentornati nel mio canale per questo nuovo video su Destiny 2 Ragazzi, oggi vi voglio portare un video contro un cheater Era da tanto che noi matchavamo uno così tanto, diciamo, palese Nel senso che non nascondeva più col cecchino, ha cercato assolutamente di vincere Stava cercando di fare un double carry, ragazzi, in prove Non so se fosse un ricov lui perché l'abbiamo trackerato Aveva questo tizio qui, uno di KD generale Però, ovviamente questa settimana non ha mai sbagliato un headshot con nessuna arma Era veramente tanto palese, tanto che poi l'ha giunto Lui mi ha detto, no, no, ma io gioco col controller Sì, si gioca col controller, assolutamente vero Perché voglio far vedere questo video? Innanzitutto sarà un video all'americana, quindi senza tanti tagli, senza musica Perché voglio farvi vedere come abbiamo, diciamo, cercato di provare a vincere Poi alla fine ci siamo anche riusciti Così magari se ve ne beccate uno contro sapete un pochino cosa fare Poi certo, se il cheater è bravo a giocare non potete fare niente Questo era un po' stupido, quindi siamo riusciti a vincere Vi voglio ricordare che se anche uno è cheat, però è stupido mentalmente Durante la partita si mette in dei posti dove è facile da prendere, eccetera, eccetera Si riesce tranquillamente, no, ma quasi sempre a vincere Un'altra cosa prima di iniziare, sto organizzando un torneo 1v1 Visto che abbiamo raggiunto per la prima volta su Twitch i 200 sub attivi Il torneo 1v1 che si svolgerà in un giorno tra il 16 e il 17 di luglio Costa 5 euro l'entrata che mi vedete mandare su Paypal Perché prendo una quota di iscrizione Perché poi questa andrà a formare appunto il monte premi, tra virgolette Cioè il premio che sarà Al primo posto andranno 50 euro, al secondo posto andranno 20 euro E al terzo posto andranno 10 euro Se vi volete iscrivere ragazzi trovate il link di Instagram in descrizione In cui appunto iscrivetevi Voglio iscrivermi, sarete iscritti solo una volta che mi manderete i soldi Tra l'altro mi dovete specificare su Instagram il personaggio che andrete poi a utilizzare nel torneo Altra cosa ragazzi sta finalmente per uscire la guida del PUP Quindi se la volete il più presto possibile Vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video Magari raggiungiamo i 150 mi piace per il prossimo video Una bella iscrizione nel caso non foste ancora iscritti Un bel commento E io vi lascio a questa incredibile partita in trials contro uno Che neanche con i cheat è riuscito a vincere Pensate che pezzo di bidone Vi lascio ragazzi Ho preso dietro il muro Eh c'è il cheat, cheat, cheat questo Ma infatti mi ha preso dietro il muro C'è una cheat, cheat, cheat Ah la TLV col pad ma cheat Fra ma come mi ha preso ragazzi Resta un minuto Sì poi mentre rispondo Sì ma com'è to' a Rolli Uno Ma Ma Ok A uno No 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 Mi ha fatto Cioè mi ha sparato senza mai avere il cecchino in mano col cecchino Non aveva la luce Mentre scavalcava mi ha sparato fra Cheat Cheat, 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 cheat Bene a posto Perfetto Sta citando rega Rolli Oh che noia Che palle No citta citta Zumi citta 100% Sta citando Che palle oh Eh ti Eh prova Eh per forza E' fuori Rolli Niente abbiamo un cheater contro Oh c'è zoom Vadi Sono qua con te ma Resta un minuto amico mio Ai colpi Vadi Eh one Sì vabbè Fra Vieni co Vieni co Fra appena gli ho scritto cizca E gli hai i sussurri aperti Non becca più A due di che di Oh ma citta citta 100% Uno di generale Segui Due con 96% Di accuracy Eh Ma uno mi ha Mh Buono La TLV una copertura Raga Dov'è Eh Sì 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 Non so Cioè stava mirando te Presume Scendi Perfetto Sottomissione più forte della dranga Io ho detto vabbè passo perché stava mirando lì Zoomi invece No Ha sparato a me Sta citando Tra l'altro mi sei pure incastrato il personaggio Ah no ma ti giù Io ho visto Sei entrato te Ha detto vabbè passo io No invece ha sparato a me Non te No ma sta citando al 100% Non li vedo Fuori Ah è line Ho preso uno Mi sta prefirando Città di brutto Fra occhio occhio che città di brutto Prefire un sacco Buono Dobbiamo Forse non ha l'aimbot Però l'uolac sicuro 100% Sì Poi l'altro mi prefira Con la TLV Anche con lo sniper Si nota tantissimo Non ha l'aimbot comunque Ti ha mi lisciato Con lo sniper Non ti lo dir Eh so con Ah ce l'ha Ah ce l'ha Tara Perché l'ha lisciato lì Eccola Eh sta citando Bravo Eh sì Un po' blatant Sì sì Non sta neanche più provando a nasconderlo Vabbè raga Ve lo dire Mi sta anche ti beggando Sì sì Tra l'altro pure verso 15 Facendo 2TKD a game Ok Andiamo a persi contro le titane Forza Non la pozza Occhio maci di non piccare Dobbiamo far fuori gli altri due Bravo 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 Bella 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 Pusha Cioè pusha Pusha Se no restano Quello hai preso Zoom Sta double cariando con i cheat ragazzi Ah fammi Fammi Eh sì Posta che uccidiamo quel rally lì Abbiamo vinto Sì che non Eh boh Io so così il bar No che capissima connessione Ma va a cagare Si può neanche segnalare Su sto gioco Vedi non andare fuori Sì No 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 Vedi non andare dentro No Conviene andare dentro Come lo baiti fuori Lui si Vabbè Sì Lì Sto dietro la scatola Che mira Bravo Ha sprecato un colpo Sprecato un colpo Sì Come ha fatto a prenderti Dove hai preso il resto Eh Andiamolo anche noi Vieni via Magid Ressami 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 Sì Sì Io devo tenere Rolly qua Raga Ma che c'hanno il coso lì Guardate raga che gli spariamo per non fargli prendere Ah mi è finita il pozzone Non fa mia Non gli far riprendere il resto Non gli far riprendere il resto In qualche modo In qualche modo dovete rassarmi Raga Che stanno fanno la bolla Ah beh c'hai riprendere anche tu Magid Buona 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 Meglio 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 Mi resta anche fuori Mi resta anche fuori Non perdiamo Vero Uno vado a prendere la zona Vai vai tu vai tu Ok ti muonita Ok ti muonita Ok ti muonita Rolly molly Mi piacerebbe busciare ma non so No Ok uscire da noi Ah ma si non Mi sa che quell'hca anche il titano Quello con le monarca Anch'io ci ho pensato Però No No Quello con il titano è scarso Si ma non Uno ce l'ho io dietro Eh Non è che è in botta Però ho un l'h Secondo me Hanno il pozzone Però possiamo farlo con l'affare Ho preso Rolly Ho preso Bella 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 Io sono qua dietro Rissabilissimo Buono Ok Vado a rissare Vado a rissare Al pozzone Al pozzone Eh esatto Qui si c'è il mio esatto E qua l'ulti Vado dov'è 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 Ti beggiamolo bene Forte più forte Ti beggio più forte Spaccate sta merda ragazzi Spaccatelo sto contro Adesso io l'accetto la richiesta Che me l'ha inviata a mid partita Accettamela adesso la richiesta Pezzo di merda Pidone Se neanche con i citto Neanche con lei In botto Frank Credibile Pidone di merda Pidone di merda Pidone di merda